E il premio... no, c'è Pasquale D'Ore, la signora Angeloni. E poi ci complimenti a me e di tutti quanti, ovviamente, i presenti. Complimenti. Di stare... Io ho avuto un'attività. Antonella. Mi troppo, mi troppo, mi troppo, mi troppo. Mi troppo, mi troppo, mi troppo. Allora, passiamo al racconto Play. Sono lì, è il microfono. Grazie. Grazie. Beh, due parole le voglio dire anche io. Sono 11 anni che sono della... Bocca al lupo. Grazie mille. Che delle donne alla vita artistica e politica... E il racconto era veramente divertente. Grazie mille. Un meravigliore racconto, un bocca al lupo e... E visto che hai detto che è la prima, questa... Sì, che poi magari... La prima è 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 la prima